Consigliere Guerrini, per un richiamo al regolamento? L'articolo 31. Bene. L'articolo 31 stigmatizza i comportamenti non consoni all'Aula Consiliare. Credo che i consiglieri del Movimento 5 Stelle possano essere assolutamente portati ad esempio per il loro comportamento, nonostante le gravi provocazioni che in quest'Aula sono costantemente portate avanti. Personalmente sono stata chiamata in causa dal consigliere Politi giorni fa, che ha definito il lavoro della Commissione delle Elette una serie di spot pubblicitari. Questo non ci interessa perché come sempre chi non sa fare insegna e chi sa fare fa. Purtroppo questo comportamento del Movimento 5 Stelle non dà origini a esempi virtuosi, perché nel tredicesimo municipio un consigliere del partito, del consigliere Politi, ha mandato al pronto soccorso una consigliera del Movimento 5 Stelle aggredendola fisicamente. Questo logicamente non è materia di questo consiglio decidere le colpe o meno, rimangono i fatti di un comportamento violento all'interno di una sede istituzionale e per questo noi lo stigmatizziamo pesantemente chiedendo che il consigliere autore di questo gesto dia le sue dimissioni. Grazie. Grazie.